Musica Hey guys Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Salvatore E siamo qui ragazzi finalmente per iniziare La serie che vi avevamo promesso Ovvero la serie su Call of Duty O Call of Duty Call of Duty o Call of Duty Vabbè quello Call of Duty Advanced Warfare ragazzi Questa serie sarà gestita Interamente da voi Noi faremo solo i video ragazzi Perché sarete voi a decidere Cosa fare Cosa farò ad ogni morte Abbiamo già annunciato questa serie sotto Il proviamolo insieme di Call of Duty E così è stato estratto a caso Il commento che Avremmo usato durante questa puntata Ed è uscito questo commento Questo qua Sopra la Coca Cola Lo vedete? Si Ad ogni morte un cappottone Dicesi cappottone Una schiaffeggiata veloce Ha portato alla vittima Dopo averla coperta Con un grande cappotto Bene ragazzi E chi mi farà il cappottone Secondo voi? Sono già prontissimi Tutti e due Per Speriamo di morire poche volte Per farmi i cappottoni Ora anche al nord Hanno scoperto Cosa significa cappottone Allora mettiamo una partita Multiplayer L'ho appena messa Facciamo una partita Normalissima Un deathmatch Normale A squadre A decupere lo profilo online Vediamo un po' Cosa mi esce Speriamo di morire Poche volte ragazzi Coloro che giocheranno Contro di me Speriamo che Non mi Facciano morire Troppo Ok Stiamo aspettando la partita Questo sono io Quanto so bello però Devo fare trova partita Giustamente Io non ho di online Proprio qua Deathmatch a squadre Crea una classe Operativa Come che devo fare? Ah ok Mi ha trovato già la partita Bene Si inizia ragazzi Speriamo di morire Poche volte Dove giochiamo qua? Non la so la mappa Come si chiama? Perché ho l'iPad davanti Con il nome Riot Una mappa Riot Ok Sono una schiappa Quindi ci saranno Tanti cappottoni Secondo me Allora Previgionamento Jonathan Già si è preparato Con un cappotto Ecco Vedi Bene 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 In attesa di altri giocatori Si inizia Ok ok Quale arma voglio? Quale arma questa? Va bene Ok si inizia subito Cerchiamo di essere veloci E di non morire C'era qualcuno già là Tu chi sei? Sei amico nemico Ok scappiamo Scappiamo Non voglio morire Ok Questo è un cattivo Questo è un cattivo No Che cacchio Che cacchio No Chi è questo che mi ha ucciso? Chi cacchio No 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 Ma questa nuova Ma è l'anima che vive Attenzione sistema violato Chi è che è il mio violato? Stai scelto fuori dalla mappa Arriva un approvvigionamento nemico No 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 Aiuto Ma quello fa il camperone Da sopra la casa No 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 Aiuto Ma quello fa il camperone Da sopra la casa Guarda di che ci sta più un cronico L'ho fatto L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato No Non l'ho ammazzato Che sono abbassato Sconfitto Già è finita la partita Qui abbiamo finito Sentinelli Sentinelli Già ha perso Già ha perso questa partita Porca trottola Ma vedi vedi Si mettono a fare i gamberoni All'arrabbiata Ma devi fare un'altra partita Questa era già la pinta Eh sì Ok Infatti ammazzato Da brothers L'ultimo Zero Uccisioni O due Morte Che cacchio Ho fatto proprio schifo Vabbè Ho giocato a partita iniziata Questo è uno schifo time È finita È uno schifo time Come direbbe La vita secondo Jim Ah no Logicamente Jim Non la vita secondo Quattro Tre Due Uno E che caputtoni Abba ne inizia Abbiamo avuto già un piccolo assaggio Questo è solo un piccolo assaggio Allora In che squadra sto io Un 27 Un 36 Un 14 Un 22 Un 42 Concord C'è uno che si chiamava Concord Tu Concord O non Concord Instinct La mappa Bene Tra le frasche Le fresche frasche Bene Non voglio morire Ok Ci mette tempo per iniziare la mappa Così inizia Scegliamo Questa Vai qua Questa l'ha iniziata all'inizio L'ha iniziata all'inizio Uccidi i giocatori nemici Se li trovo Già mi levo l'ultava Mi levo su Su di sciarge Eh ucciso Primo sangue No l'ha fatto Candy Crash Se è assist! Assist sono... Sono come Amsic Faccio gli assist Questo è blu Quindi sono amici nemici Ok, ho visto uno che sparava verso di me Scappiamo No, mentre volavo mi ha ammazzato Mi ero dimenticato del capputtone Chi sei vecchio Non voglio morire Mi ero quasi dimenticato che ci stavano i capputtoni No, 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 no Cioè, ma... Io non ho ancora ammazzato nessuno Ho fatto solo un assist No, 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 no No, no, no Cioè, ma... Cioè, io non ho ancora ammazzato nessuno Ho fatto solo un assist Porca trottola Controllo perso Troppo velocissimo Faccio proprio schifo E certo, se facessi qualcosa Quindi ti do un complimento Ehi, grande Ma fa' un mucco Ho ammazzato uno Oh, oh No, 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 no Scappa, no Ehi, grande Maronna mia Sta cosa è proprio fastidiosa Devo camperare solo Oh, proprio vicino a me Il drone che salta Ehi, grande Ehi, spezza i cuori Perché non lo so che cacchio sia Però ho spezzato i cuori No Da dietro, da dietro Oh, cacchio Ehi, becchio Ehi, divertimento Il mio capello pazzo No, chi è? No, è un amico Nemico Dove l'hai? L'hanno ucciso il tuo amico là Sta venendo di qua No Stava un altro che mi guardava Ehi, morì un altro Cento volte Oh, cacchiolone Basta Non voglio morire più Come si mette all'arretto Che cacchio Mi sono preso Ma io sono proprio scherzo Copritemi Cambio caricatore No No Perché io ti stavo sparando I miei capelli ormai Sono andati proprio A farsi friggere Eh, con l'hug Non si vedeva più Eh, vai Ora me la paghi Friggi, friggi Friggettone Sotto la scavatrice Sotto la scavatrice Ok, ci sono Ehi Doppia Morto? Sì Ok Forse ho trovato una buona posizione Ma perché a volte Vedo che fanno flash Tipo flash Cosano No 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 Mi ha cecchinato Avevo trovato una buona posizione No 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 Mi ha cecchinato Sì 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 Giustiamoci capelli Sì Grande una mira proprio del cacchio io no mannaggia buba mannaggia ma non all'arrabbiato ma non male che l'ho visto no mi stavo concentrando a seguirlo uffa non mi piace questa cosa l'ho fatto a quello però almeno no però sono morto si sono divertiti proprio perché quello fa il camperone eh assi sta fai mocca a mamma ti sto mingando arriva un approfissionamento nemico come dire bella è tu qua mi metti mi metto io qua ho trovato proprio il gamberone speriamo solo che non vide nessuno ah ma è un amico abbiamo vinto no vabbè però almeno avete fatto qualcosa guarda cosa ho fatto schifo sono messi due contro uno bagarospi oh ho fatto il secondo con otto uccisioni e però dieci morti cioè quindi mi ha fatto dieci caputuno non vediamo 3 assist 3 assist Vabbè Quindi finiamo così Jonathan Eh si finiamo così ragazzi I capputtoni sono stati abbastanza Due all'inizio e dieci nella seconda partita Abbiamo fatto abbastanza capputtoni Grazie ragazzi per aver visualizzato il video Non vi dimenticate di commentare con I pegni che vorreste vedermi fare Condividete su Facebook Twitter, Google+, ovunque Voi vogliate Non vi dimenticate sempre di iscrivervi Al canale con il tastino che c'è qua Mi piace Eh bravo mettete un bel mi piace Mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers Così per ricevere tante notizie su di noi E sui videogame e se mille casi Per caso può capitare che il video Non vi sia piaciuto Da parte dei dieci cappottoni Grazie ragazzi e al prossimo video Ciao a io Ciao a io